Lancette dell'orologio indietro fino al pre-pandemia durante le vacanze di Pasqua. Queste feste sono state le prime da quando il governo ha deciso l'avvio del percorso di allentamento delle restrizioni e gli italiani sono tornati a spendere, benché due anni di crisi e gli attuali rincari su energia e beni di prima necessità pesino sulle tasche dei consumatori. Tanti turisti in Abruzzo, in media ogni famiglia ha speso 69 euro per la sola domenica di Pasqua, il 25% in più rispetto allo scorso anno e quanto emerge da un'analisi di Coldiretti che registra numeri simili a quelli del 2019. Gli italiani in viaggio verso casa sono oltre 11 milioni, di questi il 95% è rimasto tra i confini nazionali, uno su tre nella propria regione di residenza. Le mete più gettonate sono state il mare e la città, destinazioni queste scelte dal 32% di turisti. Sulla costa abruzzese il weekend appena trascorso ha rappresentato per molti lidi una prova generale della stagione balneare 2022. Tra pranzi e feste con musica e riva al mare si è registrato il tutto esaurito, nonostante il forte vento. Boom di turisti anche all'Aquila, migliaia ieri le persone che hanno visitato il capoluogo, rifocillate dallo street food nel parco del castello, organizzato per l'occasione. Turisti soprattutto da Pescara e da Roma, ma anche da Veneto, Lombardia e Germania, che hanno usufruito dei percorsi attivati dall'info point del comune. Ci aspettavamo un turismo mordi e fuggi, ha commentato l'assessore Fabrizio Aquilio. Invece siamo stati sorpresi dall'interesse e alla conoscenza a 360 gradi del nostro territorio. Ma non solo mare e città. Un turista su cinque quest'anno ha scelto la montagna. Il 17% è andato in campagna. Campo Imperatore si è acceso di fornacelle e in tanti hanno voluto approfittare della nevicata di Pasqua per le ultime discese in sci. Ieri impianti di risalita aperti, sole splendente e 600 passaggi in funivia nella stazione sciistica di Campo Imperatore sul Gran Sasso d'Italia. Continuano ad arrivare sciatori da fuori regione, soprattutto dalla Puglia, ha detto il gestore degli impianti Dino Pignatelli. Contiamo di allungare la stagione per tutto il ponte del 25 aprile per portarla a conclusione il primo maggio. Un Abruzzo a Pasqua e Pasquetta vissuto a tutto tondo, anche in canoa o in mountain bike. Nella sola giornata di ieri, al Lago di Penne, ci sono state oltre 250 escursioni. Ora albergatori, ristoratori e operatori turistici guardano con ottimismo ai prossimi festivi appuntamenti, quello del 25 aprile, del primo maggio, ma soprattutto all'estate, che dovrà essere motore della ripresa economica del territorio.